Sono Giulia, sono una venditrice e sono una Scientologa. Un paio d'anni fa nella nostra azienda le cose hanno iniziato a non andare tanto bene e invece che abbatterci e dire oh mamma mia c'è la crisi e la cosa che abbiamo fatto è prendere i dati di Scientology e vedere come potevamo risolvere quella situazione. Abbiamo applicato i dati e siamo usciti da quella situazione e adesso stiamo ricominciando la nostra espansione e sta andando tutto a gonfie vele. Con il mio addestramento in Scientology ho migliorato tantissimo degli aspetti che mi permettono di avere a che fare con gli altri. In particolare ho migliorato la mia capacità di comunicare con le persone e di riuscire veramente a stabilire delle relazioni salde con queste persone ed è qualcosa che non ero mai riuscita a fare prima. Prima di Scientology tutte le volte che avevo un ragazzo diciamo che non andava tanto bene. Poi ho letto un libro che è Scienza della sopravvivenza e ho capito esattamente che cosa avrei dovuto fare. Adesso sta andando tutto alla grande e fra un anno dovrei sposarmi. Quello che ho trovato in Scientology è proprio una cassetta degli attrezzi per vivere meglio e far vivere meglio anche gli altri. Adesso se succede qualcosa a qualcuno della mia famiglia o qualche mio amico io so subito come agire. So subito dargli una mano e quindi questo ti fa sentire bene nei confronti delle altre persone e ti fa sentire veramente utile. Sono Giulia e sono una Scientologa.